Ciao bimbi, come state? Questi sono giorni un po' particolari e come sapete non possiamo vederci, dobbiamo stare in casa, però come vi hanno detto anche le altre maestre nei video che vi stiamo mandando, ci mancate tantissimo e vi vogliamo tanto 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 bene, vi pensiamo sempre. Vi mando questo video non solo per salutarvi, ma perché come sapete tra pochi giorni è la festa del papà e allora avevo pensato di leggere insieme a voi una poesia che potrete dedicare ai vostri papà, però mantenete il segreto. La poesia si intitola Il papà gelato. Il papà gelato è un po' come il gelato, ce n'è di tanti gusti, in più è regalato. C'è il papà gusto panna che ti accompagna a nanna, c'è quello all'albicocca al quale puoi montare in groppa, c'è quello al cioccolato che è sempre un po' sbadato, c'è il papà al gusto torrone che è proprio un chiacchierone. E il mio papà com'è? Di buoni come lui proprio non ce n'è, è un gusto fantasia ed è il migliore che ci sia. Tanti auguri papà! Allora bambini fatevi aiutare dalle vostre mamme e insieme imparate questa poesia, così la potrete dedicare al vostro papà il giorno della sua festa. Con questo bimbi vi saluto, ci vediamo presto, vi mando un grosso bacione e vi ho tutti del cuore. Ciao bimbi!